Trasferta romana ieri per il sindaco domenico messianese per il suo vice con delega allo sviluppo economico Simone Siciliano in merito alla risoluzione della vertenza Gela. L'avvio degli avvisi per rigenerare il tessuto produttivo locale e l'accordo di programma per tracciare il dopo petrolchimico, ha detto il sindaco, sono i traguardi finiti sul tavolo di ben quattro ministeri e della regione siciliana. Il prossimo 2 febbraio questi argomenti troveranno la sintesi al centro di un confronto tra il gruppo di coordinamento e controllo per l'area di crisi industriale complessa istituito poco dopo il mio insedimento, la regione e i ministeri alle infrastrutture, lavoro, ambiente e sviluppo economico. L'iter del protocollo d'intesa e robustito dalle nuove richieste avanzate dalla giunta messinese, ha dichiarato l'assessore siciliano, passa anche per lo stanziamento di parte degli oneri di compensazione per il porto. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ci ha rassicurati, ha detto siciliano, che nel giro di pochi giorni verrà emesso il parere per il piano di caratterizzazione del porto a rifugio, in modo da avviare subito dopo la caratterizzazione e finalmente il cantiere per il dragaggio. Una buona ed attesa notizia per il settore della pesca incardinata in uno scenario di sviluppo più ampio che ci vedrà a giorni attorno al tavolo per l'area logistica integrata con Augusta, Catania e Messina, ha detto ancora siciliano, in cui si pianificheranno gli investimenti per la rete portuale del Mediterraneo, in cui Gela è entrata a far parte. A breve avremo contezza anche degli studi economici eseguiti in questi mesi da Eni e dalle associazioni di categoria per la realizzazione degli impianti per la produzione e distribuzione del gas naturale liquefatto, mentre apprendiamo con soddisfazione la notifica dell'autorizzazione regionale all'impianto di steam reforming che farà di Gela la raffineria Green d'Italia. In questo modo la realizzazione della bioraffineria potrà essere avviata da subito con la finalità di riassorbire finalmente i lavoratori dell'ex indotto. Il prossimo 7 febbraio invece si porterà al tavolo palermitano il progetto di riutilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli e assieme al presidente della regione daremo ristoro, dice siciliano, alle stanze degli agricoltori per l'impiego delle quote eccedenti non più in uso alla raffineria dell'acqua dell'invaso Ragoleto. Ad un anno dunque esatto dalla mobilizzazione per la vertenza Gela, ha concluso il vice sindaco, la città è passata dalla piazza alle sedi decisionali che hanno il potere di mutare una dramma sociale in una prospettiva economica concreta e sostenibile. Se tutto questo è stato possibile e adesso si avvia alla sua concretizzazione, aggiunto infine il sindaco messinese, lo si deve alla forza del dialogo e della concertazione che in questi mesi abbiamo dimostrato a più livelli senza steccati strumentali, forti dall'unità di intenti espressa dal Consiglio Comunale e di quei segmenti sociali il cui unico interesse è quello di vedere ripartire il territorio gelese.